Perché perdi sempre l'opportunità di studiare spagnolo? C'è un modo per migliorare la tua conoscenza delle lingue usando il tempo che non pensavi di avere. Warbit ti mostra automaticamente una parola sulla tua schermata di blocco ogni volta che accendi il tuo cellulare. Semplicemente l'utilizzo della lock screen Quando controlli il tuo cellulare la tua attenzione è concentrata sullo schermo. Sei libero da quello che stavi facendo e pronto a ricevere nuove informazioni. In quel preciso momento Warbit utilizza la tua attenzione per qualche secondo per studiare. Ogni volta che controlli il cellulare perdi tempo utile e attenzione. Warbit ti permette di utilizzare Tutte le volte che guardi il tuo cellulare basta che leggi per qualche secondo. Non comporta nessuna interruzione o fastidio alla tua giornata. Quando controlli i messaggi guardi YouTube o semplicemente controlli l'ora puoi studiare una dozzina di parole e frasi al giorno. Tutto ciò si accumulerà fino a mille parole al mese. Un'ultima cosa Warbit ti ricorderà costantemente di studiare la lingua. Allo stesso tempo ti farà sentire che stai facendo progressi passo dopo passo. Sentirai un senso di realizzazione ogni giorno. Scarica ora Warbit su Google Play. Le tue competenze linguistiche miglioreranno facilmente e velocemente.